Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di che fine ha fatto Google Maps. Dietro questo dubbio, questa domanda che attanaglia tantissimi utenti che utilizzano Google Maps, c'è in realtà una risposta, ovvero c'è una regolamentazione da parte dell'Europa che si chiama Digital Market Act. È vero, una regolamentazione abbastanza recente che ha rivoluzionato un po' tutto quanto il mondo di internet. E Google Maps l'abbiamo preso un po' oggi come pretesto per questa puntata perché credo che sia per certi versi la punta dell'iceberg, soprattutto per gli hotel. Sì, per gli albergatori e albergatrici. Esatto, e dietro questa regolamentazione un altro esempio che potremmo portare nella puntata odierna e per tutti coloro che utilizzano il browser Google Chrome gli è stato chiesto di scegliere il motore di ricerca. Beh, quella domanda lì è frutto sempre di questa regolamentazione dell'Europa che appunto è entrata in vigore il 7 marzo 2024 e punta a colpire i cosiddetti gatekeeper. Quindi gatekeeper sono delle aziende molto, molto, molto grandi, con una capitalizzazione di più di 7 miliardi, una cosa del genere. E per fare solo qualche nome, perché in totale sono 7, più uno che è entrato da poco, che tutti voi conoscete e che diremo solo alla fine della puntata, quindi rimanete incollati. Questi gatekeeper chi sono? Sono Apple, sono Meta, quindi Facebook, sono la Microsoft, c'è Google, c'è TikTok. Sono questi essenzialmente. Chi ho dimenticato? Amazon. Amazon. Ovviamente anche Amazon è uno di questi colossi. Questi sono stati regolamentati dicendo la tua posizione è dominante, il tuo servizio è estremamente, diciamo, ha degli aspetti che a volte possono andare in competizione con altri. Quindi se io sono Google e quindi offro il servizio di motore di ricerca e offro anche il servizio di mappe, quindi sono due verticali, due silo, questi non possono essere più integrati in maniera, tra virgolette, liquida, in qualche modo, quindi in maniera molto fluida tra di loro. Perché? Perché altrimenti non dai modo alla concorrenza, quindi altri sistemi di mappe, eccetera, di poter essere presenti all'interno del motore di ricerca. È corretto. Il Digital Market Act, come ho scritto nei miei appunti, impedisce ai gatekeeper di sfruttare la loro posizione dominante in un settore, appunto, per favorire i propri servizi in altri settori, che è il discorso del silos che facevi prima. Esattamente. Quindi un esempio forse più semplice è quello del motore di ricerca che accennavamo all'inizio. Quindi io scarico Google Chrome e quello che era normale fino a qualche mese fa era trovarmi automaticamente su Google. Questo non è più così. Quindi all'apertura di Chrome, alla prima apertura, mi viene fatto scegliere quale motore di ricerca voglio utilizzare. E ne esistono tanti altri. Non è detto che tutti gli utenti vogliano scegliere Chrome. Deve essere una dichiarazione esplicita. Voglio utilizzare Chrome perché voglio Chrome. Ma posso utilizzare Brave, posso utilizzare DuckDuckGo, posso utilizzare Bing, o chi più ne ha più ne metta. E è interessante come l'elenco con cui questi motori di ricerca vengono presentati all'interno delle opzioni è randomico. Quindi non è che Chrome presenta per primo sempre Google, ma vengono messi in maniera mista. E ce ne sono una quindicina, mi sembra, più o meno. Sì, e diciamo che la punta dell'iceberg, come accennavite prima, è appunto il servizio offerto da Google Maps. Quindi tutti gli utenti che utilizzano Google si saranno resi conto che cercando un determinato servizio, una struttura, un ristorante, un bar, facendo clic normalmente sulla mappa come erano abituati a fare, ora la mappa non si apre più. In realtà quello che sembra un autogol in realtà è frutto di una regolamentazione dell'Europa, che va però a colpire anche tutto il settore dell'ospitalità, Marco. A cascata. Quindi per punire un colosso in realtà ci stiamo rimettendo anche noi. E l'obiettivo di questa puntata è capire un po' come correre ai ripari, che cosa sta succedendo, capire il contesto che ha causato questa problematica e poi trovare delle soluzioni che cercheremo di dare più avanti nella puntata. Anch'io mi sono trovato destabilizzato dal fatto che se cerco Hotel Miramare, quando clicco sulla scheda profilo attività, sulla mappetta, la mappetta non mi si apre più. Sì, e questo è il cambiamento peggiore, no? Peggiore, sì, proprio scomodo. Poi, piccolo inciso, io ho installato un plugin che questa funzionalità la ripristina perché io in maniera esplicita voglio utilizzare questo servizio. Il problema è che la maggior parte degli utenti, l'utente medio, questa cosa non la sa fare, non la fa. Semplicemente prova a cliccare, non lo trova, non accede alla mappa e quindi non vede tutti quei servizi di cui parliamo di solito, che sono magari il prezzo sulla mappa, altri hotelli della zona, si trova in qualche modo bloccato. E che cosa fa? Fa dell'altro, va su booking.com oppure va su un altro portale, non finalizza la pronotazione direttamente. E questo non lo dico per impressioni, ma proprio abbiamo misurato che effettivamente c'è stato un calo delle pronotazioni che arrivano attraverso i free booking links dal 30 al 50%. Quindi diamo i numeri, questi numeri che diamo qui lì troverete anche all'interno dell'articolo in descrizione della puntata, quindi potrete leggere un articolo dedicato appunto con dei numeri e con delle statistiche e mi parli di un calo stimato tra il 30 e il 50%. Dipende dal tipo di struttura, dipende dalla strategia tariffaria che questa metteva in atto prima, perché sappiamo bene come il metasearch di per sé presenta il prezzo. Quindi se la tua strategia di tariffa, tariffaria, incentivava molto e tuttora lo fa il prezzo diretto perché magari è più scontato, a quel punto il calo è stato più basso, in altri casi è stato più alto. Dal punto di vista della localizzazione dei free book links sono sempre messi lì, dove erano prima. Il problema è che è un pochino più difficile cambiare le date, per esempio. Se voi ci giocate e cercate il vostro hotel e avete ovviamente attivo i free book links, quindi il link che rimanda al vostro book engine, vedrete come la data di default è messa da domani, dopo domani, oppure il prossimo weekend, mi sembra, una cosa del genere. Cambiare la data non è banale, perché deve andare su un menu sopra, cambiare le date e l'utente medio questa operazione non la fa, quindi lì abbiamo un drop. Come anche, per esempio, il fatto che ora le recensioni che appaiono sulla scheda profilattività non sono più solo le recensioni di Google, ma sono anche le recensioni di altri portali, tra cui TripAdvisor. Quindi anche lì abbiamo una exit lane, quindi una via di fuga, di uscita del nostro funnel che porta i nostri utenti su un altro metasearch. Sì, oltre a questo c'è anche una difficoltà nell'accedere a Google Travel e quindi abbiamo meno prenotazioni dirette, perché appunto lo scopo di Google, specialmente con i free book e links, è incentivare le prenotazioni dirette e questa regolamentazione europea in un certo senso sfavorisce questa strategia qui. Qui mi viene in mente quel detto che si sente spesso online, che è America creates, Asia emulates and Europe regulates. Quindi noi siamo sempre quelli che vanno a regolamentare, che è un aspetto per carità importante, l'abbiamo visto col GDPR, quanto ci tutela. Talvolta però ci facciamo un po' degli autogol, come in questo caso per cercare di arginare il dominio di un colosso, andiamo a creare un problema a chi è sotto, che è più piccolo e nel nostro caso gli albergatori. Ok. E quindi dobbiamo correre un po' ai ripari. Quindi l'America crea l'Asia copia, l'Europa invece regolamenta. Ok, perfetto. E' questo giro, che si dice di solito. L'esempio di Google Maps è un esempio interessante. L'esempio di free book links lo è altrettanto, come anche la parte delle recensioni. In linea generale cosa non è cambiato? Non è cambiato il risultato organico. All'interno delle serpe di ricerca, se il nostro sito era ben posizionato prima, lo sarà anche adesso. Quindi lì il movimento non c'è stato, o almeno non sembra. Sì, ritorna quindi quel discorso fondamentale che è quello di investire nel sito web. Investire in un sito web vuol dire creare dei contenuti all'interno del sito web che si vadano ad indicizzare e avere un sito con una struttura snella, che sia aggiornato, che abbia dei tempi di caricamento veloci. È un discorso che portiamo avanti sempre, che sicuramente il consulente che segue il vostro marketing conoscerà benissimo. Però oggi più che mai questo aspetto diventa importante. Proprio perché quello che succede è che il portale booking.com di turno, giusto per non fare nomi come spesso facciamo, ovviamente viene messo in una posizione migliore, ma non perché viene effettivamente alzato rispetto al resto, semplicemente perché il resto viene abbassato. Quindi il nostro sito diretto deve essere, come dicevi giustamente tu Edoardo, ottimizzato, ma anche con un bel booking engine che dia garanzia a chi prenota di avere la sicurezza di poter mettere la propria carta di credito su un sistema che dia affidabilità e sicurezza, oppure un form di richiesta preventivo che sia facilmente accessibile. Quello che diciamo sempre in qualche modo. Ok, ad inizio puntata abbiamo parlato di sei gatekeeper e adesso vi diamo il settimo come accennavite prima e lo lascio dire a te ovviamente perché già l'hai citato, non stiamo scoprendo l'uovo di Colombo, è entrato all'interno di questa regolamentazione del Digital Market Act a maggio 2024 ed è? Booking.com. Ok. Da qualche mese fa, quindi nel maggio 2024, è stato introdotto questo settimo gatekeeper perché effettivamente in Europa è un vero e proprio gatekeeper, quindi ha un potere, una potenza di fuoco che tutti noi conosciamo molto bene e quindi nel suo ambito deve essere in qualche modo confinato. Come avverrà questo? Come ci impatta a noi direttamente? Quella che era la clausola di parity rate che poi in Italia non era più valida e che quindi si poteva, tra virgolette, fare un po' come ci pareva anche se poi ci telefonavano e ci dicevano guarda che non stai lavorando in parity, ti penalizziamo, eccetera, viene stroncata o almeno sembrerebbe in toto. Quindi a livello europeo questa clausola non regge più e deve essere anche più trasparente la modalità con cui Booking.com crea il suo ranking. Oh, ok. Quindi questa regolamentazione porterà maggiore trasparenza da parte di Booking.com, quindi sotto questo punto di vista aumenterà il potere contrattuale da parte degli albergatori, quindi se da una parte magari possono essere svantaggiati a livello di prenotazioni dirette tramite una piattaforma come Google Travel, sotto questo punto di vista la situazione potrebbe cambiare a loro favore, no? Dovrebbe, sì. Quindi praticamente quando si parla di maggiore trasparenza nel ranking significa che ti spiego, ti do informazioni sul perché Hotel Miramare viene dopo di Hotel Pinco Pallo, il tuo hotel perché viene dopo. Come queste informazioni verranno veicolate a chi l'albergo lo gestisce? Io ancora non lo so, non lo sa nessuno credo. Come anche non si sa quali sono altri vantaggi in termini di dati che verranno forniti agli albergatori. E questo è il terzo punto. Quindi oltre a discorso pari di rate che, vabbè, lasciamocela da una parte, non è più richiesta e non è più, diciamo, impugnata in qualche modo. Il ranking che sarà più chiaro poi verranno forniti dei dati agli albergatori. Che dati sono? Io non lo so se sono dei dati sulle destinazioni, sul volume di ricerca, sul tasso di conversione. Saranno sicuramente dei dati utili, mi immagino, però ancora non si sa quali sono. Rimaniamo lì in attesa di scoprire quale generosità ci verrà concessa in qualche modo. Non lo sappiamo ancora bene. Esatto. Quindi, detto tutto quanto questo, ho capito che Google è stato in qualche modo limitato, tamponato nella sua potenza, quindi nella sua capacità di intersecare diversi verticali che copre dalle mappe al travel, alla ricerca, eccetera. Quindi si evita di saltellare da un servizio all'altro in maniera facile e capito che Booking.com verrà in qualche modo anche lì tamponato un po', ma se non altro verrà reso più trasparente, perché comunque Booking di per sé è un silo, non è che c'ha chissà quali altri servizi che vanno a interagire tra loro. Sono un po' curioso di capire che cosa succederà all'intelligenza artificiale, che abbiamo già chiacchierato, abbiamo già discusso qualche puntata fa, abbiamo detto essere il sistema di integrazione per eccellenza. Quindi un sistema che si basa proprio su questa integrazione tra i vari servizi, no? Quindi quando parlavamo di Gemini, Gemini AI, che è il servizio di intelligenza artificiale di Google, abbiamo raccontato come, cercando attraverso un prompt all'interno di questo sistema qui, Google fosse in grado di mettere insieme le mappe, il profilo attività, i video di YouTube e costruire una risposta partendo da tutti quanti questi servizi. Questo sembrerebbe essere in estrema contraddizione con questo Digital Markets Act che è stato introdotto, che vieda proprio questo intreccio, che è la potenza dell'intelligenza artificiale, cui ci tocca probabilmente rimanere alla finestra a guardare e vedere che evoluzione ci sarà. Ok, perfetto. Ti vedo preoccupato per questo? No, sono perplesso. È complesso, nel senso, non è che ne possiamo rispondere oggi. No, assolutamente. Quello che accadrà probabilmente arriverà all'Europa, farà un'altra regolamentazione e vai. E per la parte AI già esiste una regolamentazione che entrerà in vigore nei prossimi anni. Il problema è che se tu regolamenti oggi qualcosa che entrerà in vigore già domani, già è vecchio. E quindi bisognerà essere molto agili su questo fronte per riuscire a mantenere il passo di un mercato che evolve in maniera molto rapida. Io, il mio parere personale è che lasciando l'AI da parte e tornando al mondo di Google, in questo caso specifico, credo che l'utente sia stato penalizzato. Sia l'utente che cerca un soggiorno, che cerca quindi un hotel, che l'albergatore stesso, quindi l'utilizzatore finale. Non credo quindi che questo Digital Markets Act sia nella sua versione definitiva adesso, perché mi sembra un po' too much, troppo restrittivo, troppo vincolante e troppo a favore paradossalmente di altri gatekeeper un pochino più piccoli che in realtà rimangono sotto la soglia del Tosa Erba e che quindi non hanno beccato la lama. La vedo un po' così. Ci tocca restare a vedere il suggerimento che davi tu prima di lavorare sul proprio canale diretto, sul sito, sul Booking Engine e quindi sul tuo feudo rimane comunque la soluzione definitiva. Sì, è il nostro porto sicuro, il sito web, quindi quello che dobbiamo curare in ogni aspetto e chiediamoci quante volte l'abbiamo fatto nell'ultimo, non dico mese, ma perlomeno nell'ultimo anno. Esatto, se non generiamo contenuti, se non mettiamo foto accattivanti, se non produciamo contenuti social eccetera, che poi riferenziamo all'interno del sito, rischiamo di maniera bocca asciutta. Quando? Quando cambia l'algoritmo, quando cambia il modo con cui viene fatto un certo ranking. Siamo molto forti su Facebook, ma Facebook non è tuo. Se domani Facebook ti banna per qualche motivo, ti oscura, ti mette sotto in termini di visibilità, tu non puoi farci nulla. Invece il tuo sito è il tuo feudo e tu lì dentro puoi fare il bello e il cattivo tempo ed è sempre il tuo porto sicuro. Mi piace questo termine, me lo rivendo sicuramente. Sì, lasciamo come sempre la parola ai nostri ascoltatori. Potete scriverci come sempre al numero 075 91 40 78 2. Attendiamo anche i vostri messaggi vocali. E anche oggi qui dal nostro studio di registrazione in via Vittorio Veneto a Gualdo Tadino è tutto. Ci vediamo come sempre venerdì prossimo all'Alba, mi raccomando Edoardo. Rigorosamente. Rigorosamente all'Alba per una nuova puntata di Ospitalità 4.0. Ciao a tutti. Buon lavoro. A venerdì prossimo. Ciao.